Sono stati attimi di paura quelli vissuti a Pergo di Cortona nella chiesa di San Bartolomeo per delle isolazioni di monossido di carbonio che si sono sprigionate da dei riscaldatori a gas e è stato così attivato anche il sistema delle maxi emergenze. Abbiamo percepito insomma che qualcosa non andava anche perché la sintomatologia era quella compatibile con un'intossicazione da monossido di carbonio e infatti le persone hanno avuto una sincope. Nei locali della parrocchia si stava svolgendo un evento di catechismo con 17 persone. Ad un certo punto il parroco di 84 anni ha iniziato ad accusare malesseri. Poco dopo anche una parrocchiana ha avuto un mancamento. Noi siamo intervenuti inizialmente con un primo mezzo di soccorso che ha rilevato appunto la presenza del monossido di carbonio grazie ai rilevatori che tutto il personale sanitario compreso i ragazzi delle ambulanze hanno a disposizione. È uno strumento che rileva appunto la presenza del monossido di carbonio che dà l'allarme e poi sono intervenuti i vigili del fuoco successivamente per il soccorso tecnico e l'automedica con medico infermiere per le prime cure. Il sacerdote e la parrocchiana sono stati trasportati prima all'ospedale della Fratta poi trasferiti al Policlinico Careggi di Firenze. Per effettuare il trattamento in camera iperbarica e successivamente altre 5 persone hanno necessitato delle cure presso l'ospedale della Fratta ma non sono state giudicate così gravi da ricorrere alla camera iperbarica. Fondamentale per scongiurare il peggio l'attivazione del sistema delle maxi emergenze. Con 17 persone se tutte avessero avuto necessità di essere trasportate non avremmo avuto la disponibilità di così tanti mezzi. L'emergenza non si fa con i secconi ma si fa con i fatti. La centrale maxi emergenza è un fatto accettato, funziona, ha dato sempre le risposte corrette e ha funzionato anche questa volta.